Si va nel mezzo angolo per Achele, che poi si spazia contro Bilan, prende la tripla, segna anche questa. Poi Bornell buca il rimbalzo offensivo, ne approfitta Sokolowski, ancora il ritmo Achele, che prende, spara, segna anche questa tripla. Pallone ribaltato per Achele, può attaccare dal palleggio contro Ben Giusto, lo lascia lì, di velocità.